...di scena di Natale, però anche con le mogli. E Minaya, prova la distanza! Minaya! A zero! Gol straordinario! Yuzu! Yuzu! E Minaya! E Minaya! E Minaya! E Minaya! E Minaya! Yuzu! Yuzu! E Minaya! E Minaya! E' difficile, grossissima gol! Lì per la terza parola, lì per la terza parola, lì per la terza parola, lì per la terza parola. E' un'altra parola, lì per la terza parola, lì per la terza parola. E' un'altra parola, lì per la terza parola. Sono contentissimo con questo lavoro. Bravo Siccio! Bravo Siccio! Bravo Siccio!